Manca solo il comunicato ufficiale, ma Matteo Soragna è un giocatore dell'Orlandina Basket. La guardia mantovana, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene, ha incontrato i dirigenti bianco-azzurri alla presenza di coach Pozzecco per definire gli ultimi dettagli di una trattativa aperta una decina di giorni fa. Soragna, giocatore di qualità importantissime, ma ormai alla soglia dei 38 anni, sarà chiamato a dare soprattutto esperienza, insieme a Niscevic, ad una squadra composta da tanti giovani nei ruoli chiave. Cresciuto in B1 a Cremona dal 1993 al 1996, Matteo Soragna esordito in Serie A nella stagione 96-97 a Pistoia, dalla Toscana il trasferimento all'allora Sitalia-Barcellona, dove rimase per un triennio conquistando la promozione in A2 nel 99-2000. E' proprio in quest'anno il passaggio a Biella, a guidare la squadra per la prima volta in Serie A1, diventando anche il capitano. Un legame fortissimo quello con i piemontesi, tanto che nel 2004 la società decise di ritirare la sua maglia numero 7. Nella stagione 2004-2005 il passaggio alla Benetton, dove disputa un'ottima stagione iniziale e fa il suo esordio nella massima competizione europea, l'Eurolega. Nella stagione 2005-2006, sempre a Treviso, vince il suo primo scudetto. Ha vestito per la prima volta la maglia della Nazionale nel 2001, in azzurro ha vinto il bronzo agli europei di Svezia nel 2003 e l'argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004.